le due frasi contengono due forme anzi tre forme del pronome personale nos ob animum tum te laudamus noi l'odiamo te quindi ti l'odiamo ti apprezziamo per il tuo coraggio nos e te sono due pronomi personali mentre tum è l'aggettivo possessivo tibi grazias ago rendo grazie ago grazias tibi a te negli esempi troviamo evidenziati pronomi personali di prima e seconda persona singolare e plurale nos è il pronome di prima persona plurale svolge la funzione logica di soggetto nos laudamus quindi è in caso nominativo te è il pronome di seconda persona singolare svolge la funzione logica di complemento oggetto e dunque è in caso accusativo tibi della seconda frase è un pronome sempre di seconda persona singolare svolge la funzione logica di complemento di termine quindi è in caso dativo è evidente dalle due frasi che il pronome personale di prima e seconda persona singolare plurale ha una declinazione propria che vediamo più avanti i pronomi personali di prima e seconda persona singolari e plurali hanno una declinazione propria declinazione offlessione propria partiamo dalla prima persona singolare che significa avere una declinazione propria che anche questi pronomi hanno i casi nominativo genitivo dativo accusativo e ablativo che corrispondono come sappiamo le funzioni logiche per cui per dire io soggetto il latino dirà ma ego che corrispondono nominativo di me genitivo mei dativo mi a me accusativo me me mi ablativo me da me con me vari complementi indiretti il plurale noi soggetto nos di noi complemento di specificazione genitivo nostri nostrum due forme vedremo in seguito qual è il significato specifico delle due forme dativo complemento di termine a noi nobis accusativo complemento oggetto nos e poi lablativo complementi indiretti nobis esaminiamo ora la seconda persona singolare nominativo tu soggetto è tu il genitivo complemento di specificazione di te tui dativo tibi a te ti accusativo te e ablativo te ablativo che come sappiamo corrisponde a diverse funzioni logiche e poi plurale nominativo plurale soggetto vos di voi vestri vestrum due forme come nel caso del pronome di prima persona plurale a voi vi dativo vobis accusativo vos e infine lablativo vobis affrontiamo ora la questione del genitivo plurale come abbiamo visto dalla declinazione nella prima e la seconda persona plurale presentano due forme al genitivo nostri nostrum e vestri vestrum che differenza c'è tra usare nostri e nostrum e usare vestri e vestrum vediamolo nelle frasi considerando il pronome di seconda persona plurale vestri vestrum memoriam vestri sempre servabimus conserveremo servabimus sempre il ricordo di voi e fin qui nessun problema di voi la traduzione standard che viene proposta nello schema se invece proviamo a tradurre la seconda frase ci accorgiamo che la traduzione operativa il significante di voi non non è quello giusto amor vestri nos yuv habit letteralmente alla lettera è amor l'amore di voi yuv habit nos aiuterà noi non è corretto tradurre di voi perché in questo caso il sostantivo presuppone che il sentimento sia diretto verso qualcuno e quel qualcuno è espresso proprio dal genitivo che si chiama non a caso genitivo oggettivo cioè un genitivo che indica a chi è rivolto quanto espresso sostantivo quindi la traduzione corretta non è di voi ma per voi vestri quindi può avere due significati a seconda del contesto di voi genitivo semplice vestri per voi genitivo oggettivo lo stesso vale per nostri consideriamo ora la forma nostrum vestrum multi vestrum valerium laudabant vestrum e nostrum nella stragrande maggioranza dei casi sono tradotti come genitivi partitivi cioè genitivi che indicano la totalità di cui si prende in considerazione una parte quindi la traduzione corretta qual è è questa molti tra voi o molti di voi lo davano valerio molti rispetto a una parte rappresentata da vestrum che appunto genitivo partitivo il pronome personale di prima e seconda persona singolare plurale presenta una particolarità per quel che riguarda il complemento di compagnia che come sappiamo si esprime in latino con il cum più l'ablativo consideriamo questa frase me cum sociorum copias duxi ho condotto con me ho portato con me le truppe degli alleati me cum come evidenziato in grassetto è il complemento di compagnia che cosa balza all'occhio che in latino non dice cum me ma me cum e qual è la particolarità molto semplice il pronome personale in ablativo precede il cum e si fonde con esso quindi me cum te cum nobiscum vobiscum eccetera vediamo ora in breve una serie di frasi in cui sono usati sono utilizzati i pronomi personali li riconosciamo e proviamo a tradurli insieme prendiamo la prima dominus vobiscum est il soggetto nominativo e dominus quindi il signore est vobiscum qui abbiamo la forma del complemento di compagnia che abbiamo visto in precedenza il signore è cum vobis con voi vobis è l'ablativo plurale di vos non est utilis nobis tua scienzia il soggetto nominativo è scienzia la tua sapienza la tua conoscenza non est non è utile a chi a noi non ci è utile nobis in questo caso è il dativo cioè il complemento di termine in questo caso più che un complemento di termine un complemento dativo di vantaggio o di svantaggio odie mi cras tibi odie e cras sono due avverbi di tempo significano oggi e domani oggi mi è il dativo della prima persona singolare ego quindi oggi a me cras tibi domani a te consideriamo la quarta frase nemo nostrum et vestrum mortem vitabiti qui abbiamo le due forme che abbiamo considerato precedentemente cioè il genitivo plurale nella forma nostrum e vestrum in questo caso la traduzione corretta è quella di un genitivo partitivo nessuno di noi e di voi vitabit mortem eviterà riuscirà a evitare la morte multi vestrum mecum apudantonium eri fuerunt fuerunt è il predicato è il verbo fuerunt al plurale quindi il soggetto nominativo plurale è molti molti di voi vestrum genitivo plurale forma al partitivo fuerunt sono stati o furono mecum complemento di compagnia con me ieri a verbo di tempo quindi complemento di tempo apudantonium con antonio presso antonio filimi da mi veniam mi è la forma irregolare del vocativo di meus ma noi interessano i pronomi o figlio mio da imperativo presente mi concedi a me dativo singolare veniam il perdono perdonami quindi e antine pot due ?